Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 26 marzo 2022, una bellissima giornata che si è alzato presto, ha potuto vedere una bellissima alba, il sole sorgere dal mare con un rosso infuocato che ha dato un po' di calore, di vigore a questa giornata. L'inizio della giornata lo evidenziamo con il Santo del Giorno. Il Santo del Giorno oggi è Santo Emanuele, un nome fatidico nel Vangelo appunto della Chiesa Cattolica. Viene festeggiato insieme ai Santi Sabino, Quadrato e Teodosio in un gruppo di 40 martiri di epoca incerta. Tutti furono mandati a morte perché non volevano rinunciare alla loro fede. Emanuele significa Dio è con noi ed è un attributo di Gesù stesso, Immanuel in ebraico. E questa mattina il sole è sorto alle 6 e tramonterà alle 18 e 28, siamo una bellissima alba, lo ripeto. Il tempo, il tempo, vediamo la grafica, ancora si mantiene solleggiato su tutta la regione, è bello questo inizio di primavera, però ci saranno dei passaggi di velature in giornata. In serata foschie sulla costa tra l'Anconetano e l'Ascolano, quindi nella bassa Marche. Le massime arriveranno un po' come ieri sui 20-21 gradi ed è piacevole passeggiare insomma con questa temperatura. Venti sulle coste da direzione di nord-nord-ovest, sull'interno invece da est-nord-est. Le notizie del giorno le leggiamo all'inizio sul Corriere Adriatico. Vediamo come l'apertura è dedicata alla Saipem, questa ditta che dà alta occupazione nel territorio fanese. Un taglio di costi per 300 milioni, sappiamo come la Saipem è in crisi, ma questa crisi non influirà sulla occupazione del personale. Senza esubero di personale, infatti intitola il Corriere, è stato presentato il piano strategico per uscire dalla crisi, un aumento di capitale parecchio, 2 miliardi e linee di credito. Questo è un po' quello che si preannuncia per questa attività. Si temeva appunto per l'occupazione dei personali. Sappiamo che la Saipem poi alimenta un grande indotto nel territorio ed è un indotto di progettisti, di ingegneri, quindi di personale altamente qualificato. Buche, gobbe, le vie degli scossoni. Se ci passa un turista, cosa pensa? È l'interrogativo che propone il giornale questa mattina, facendo un tour lungo le strade di Fano. Molte sono sconnesse, hanno delle buche, hanno delle gobbe, insomma alcune hanno proprio anche dei crateri. E qui vediamo alcune fotografie delle carreggiate di via Roma, di via Fratelli Zuccari in Sassonia e la strada della zona industriale percorsa da decine e decine di tir ogni giorno che ovviamente con il loro carico pesante creano problemi all'asfalto. Sulle strade degli scossoni, quei fastidiosi tremori delle ruote che trasmettono ai manubri oppure ai volanti è l'incipit dell'articolo di questo problema, di questo aspetto. E l'amministrazione comunale sta per intervenire, ci sono diversi milioni che vengono assegnati a questo incarico. Vediamo anche un lutto, addio ad Elisabetta Montesi, sport e socialità nel cuore. Ci saranno i funerali di questa signora che è deceduta. Stamattina i funerali si terranno nella chiesa di San Pio X alle 9 al Poderino Cordoglio in tutta la città per la prematura scomparsa di Elisa, figura conosciuta per l'impegno espletato in campo sociale, sportivo, che l'ha sempre contraddistinta assieme al resto di una numerosa famiglia che allo sport ha dato molto, soprattutto al volley, quella appunto della Montesi. Ed ora parliamo sempre di sport, restiamo su questo argomento perché finalmente dopo due anni di assenza si ripropone la Colle Marathon, una bellissima maratona che dai colli dell'entroterra scende verso Fano. Si parte da Barchi e si arriva a Fano davanti alla Rocca Malatestiana. Mancano 69 giorni, l'iniziativa si svolgerà l'8 maggio e stavolta non sarà come le altre perché saranno sempre più, dopo due anni di assenza, gli elementi di entusiasmo, gli elementi di partecipazione che correderanno questa bella iniziativa. Ce l'abbiamo fatta, ha detto con grande entusiasmo Annibale Montanari che è il patron di questa bellissima gara sportiva. gara non solo bella dal punto di vista sportivo, proprio una maratona è sempre una bella gara da affrontare, ma anche dal punto di vista paesaggistico perché si vedono degli scorci venendo giù dalle colline verso Fano, verso l'Adriatico, di grande bellezza. Le studentesse, a proposito di bellezza, le studentesse saranno le guide per le giornate del FAI di Primavera a Fossombrone. Vengono proposte le visite guidate alla chiesetta degli Zandri, al lavatoio e all'ex Filanda della città metaurense. Il lavatoio coperto si trova lungo la via Flaminia ed è stato costruito nel 1547. Poi ha avuto nuovi successivi interventi, fu ristrutturato nel 1700 e poi ancora nel 1920. L'ex Filanda, l'ex Filanda è un'azienda storica di Fossombrone, l'ex Filanda di via Pergamino. Pergamino, sì. Ed è dita anche la Filanda del Paradiso e risale ai secoli XVIII e XIX. Fu la testimone di una importante lavorazione per quanto riguarda la seta che fu rinomata anche in tutto lo Stato Pontificio, dunque un'azienda storica di questa città. Ebbene, visitare questi luoghi un po' dappertutto, Fossombrone, Fano, Pesaro, Urbino, insomma, tutti mostrano le loro bellezze. Poi ne vediamo ancora evidenziate sui giornali questa mattina. Ancora vediamo invece l'iniziativa che si è svolta a Marotta, il Tastit, un'iniziativa dedicata all'eno gastronomia. Buona la prima. In 1500 hanno alzato i calici. Organizzatori soddisfatti per questa iniziativa, per il dibutto della manifestazione. Una manifestazione che ha coinvolto ben 35 produttori, per un totale di 200 etichette, in mostra in un palcoscenico d'eccezione di oltre 600 metri quadrati a Marotta. Tra gli appuntamenti più seguiti dal pubblico, quello della Masterclass sui distillati e sugli spirits condotti dai maggiori esperti del settore. Ed è un'iniziativa che ha due aspetti, uno promozionale e uno economico, perché poi lì si tessano anche relazioni che portano poi a dei veri e propri contratti. Sulla pagina di Senigallia vediamo il ritorno di un caporale di un lavoro che è stato punito. Si tratta del caporale di Bettolelle. Ma è stato intercettato comunque dalla polizia, è venuto a Senigallia dopo essere stato condannato ed è stato rispedito via. Era un 57enne pakistano denunciato nell'operazione contro lo sfruttamento di immigrati. È stato ritenuto responsabile di avere ridotto quasi in schiavitù una trentina di pakistani suoi connazionali. L'uomo era stato denunciato perché dopo l'arresto del complice era fuggito. Nei giorni scorsi è tornato in città, ma ad attenderelo questa volta ha trovato il personale del commissariato ed è stato subito allontanato perché il GIP aveva disposto a suo carico anche la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona, quindi non solo a Senigallia ma in tutta la provincia dove aveva commesso i gravi illeciti. E vediamo anche che cosa ci dice il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove si evidenzia un provvedimento assunto dall'amministrazione comunale in favore dei commercianti. I Deors, questi box sulla strada che dovrebbero occupare, che occupano suolo pubblico, dovrebbero pagare il suolo pubblico, vengono ancora esentati. Il Comune aiuterà le attività e allunga il bonus. Suolo pubblico si vuole prorogare l'esenzione del canone per altri tre mesi e per l'estate ci saranno ulteriori misure in vista della riapertura dei locali stagionali. Dal 1 gennaio del 2021 è entrato in vigore il nuovo canone unico di concessione, una autorizzazione pubblicitaria che sostituisce la TOSAP, vi ricordate la TOSAP, la Tassa di Occupazione di Spazi e Arei Pubbliche, e poi l'ICP, l'Imposta Comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Quindi tutto questo è entrato nel canone unico di concessione. Per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo il Comune ha esonorato dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico appunto questi DEORS. Quindi il 31 marzo sta per scadere e i commercianti chiedono che venga prorogata questa esenzione di altri tre mesi. Per Pesaro, altro colpaccio, il Cater Raduno torna a luglio e sceglie la città di Rossini. Anno scorso aveva fatto una tappa, quest'anno invece rimane stabile. E ancora un altro colpaccio dunque, che cos'è il Cater Raduno? E' un popolarissimo festival estivo che è stato così posto all'atere della popolarissima trasmissione radiofonica Cater Piller. La prossima edizione del Cater Raduno sarà ospitata a Pesaro. L'annuncio è fresco fresco appunto nella giornata di ieri. E' stato dato ieri nel tardo pomeriggio. La città che sarà ospite al Cater Raduno sarà puntini puntini, sospensione, ansia, Pesaro. Così lo hanno annunciato i conduttori della popolare trasmissione, Sara Zambotti e Massimo Cirri. E' quindi un ulteriore evento che incentiverà economia e turismo. Ramarico e preoccupazione, si punti un faro sull'azienda, un'altra pagina per quanto riguarda la rinuncia a restare a Marche Nord da parte del dottor Umberto Gnudi, l'ex primario del pronto soccorso. Ramarico, preoccupazione, sono le reazioni alla notizia delle dimissioni da Marche Nord di questo stimato professionista. Era il medico che ha diretto il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera nei due anni burrascosi del Covid, quando si sono sovrapposte non solo le difficoltà create dalla malattia, ma anche la carenza di personale, la difficoltà di gestire un punto di pronta emergenza, d'ingresso, la porta d'entrata all'ospedale in una situazione veramente difficile. Intervengono in questo articolo sia la consigliera regionale Vitri sia la consigliera regionale Ruggeri, una del PD, una delle Cinque Stelle. Capisco perfettamente, ha detto Micaela Vitri, la reazione di Gnudi stritolato nella mossa della direzione. Purtroppo però ora qualunque commento a suo supporto verrebbe interpretato contro Giancarlo Titolo, che invece è un professionista stimato e non va messo in antitesi con il suo collega. Quindi nessuna al debito, mi raccomando, a questo professionista. Queste dimissioni, invece ha dichiarato Marta Ruggeri, sono la conseguenza diretta di scelte aziendali e regionali sbagliate o tardive. Oltre al fatto di perdere un bravo professionista serio, stimato, coraggioso, preparato e instancabile, ora corriamo il rischio che lo seguono anche altri operatori sanitari, lasciando il pronto soccorso sguarnito di personale ancora di più. Già è carente questo reparto di persone che appunto lavorano all'interno. aggredito per il Patek Philippe, cos'è il Patek Philippe? È un orologio di marca, costa 40.000 euro. I filmati incastrano i rapinatori. Questo è un articolo che riguarda un fatto avvenuto alcuni anni fa. L'imprenditore è stato assalito e derubato insieme alla moglie davanti alla loro villa in zona campanara. Gli hanno sottratto l'orologio che aveva al polso, un Patek Philippe, appunto, di 40.000 euro. Ebbene, questa volta i rapinatori sono stati, dopo tante indagini, indagini che sono prolungate appunto per lungo tempo, alla fine i rapinatori sono stati individuati e arrestati. Condannato il furbetto del reddito, ma per il giudice non è una truffa. Un anno e quattro mesi ad uno straniero che aveva dichiarato di risiedere in città per ottenere il sostegno, appunto. È stato di un marocchino di 27 anni che è finito nei guai perché grazie a una dichiarazione falsa, ha dichiarato di risiedere a Pesdolo, in realtà risiedeva fuori Italia, è riuscito a percepire indebitamente una somma di 7.500 euro che ora deve restituire. Comunque il giudice ha detto che non è una truffa, ma poi l'ha condannato lo stesso per indebita percezione appunto di somme che non gli spettavano. Capitale della cultura, sulla scia anche i mosaici della cattedrale. Pesdolo ha un grande patrimonio di opere musive sotto la cattedrale. Peccato che si vedono raramente, ma è un bellissimo pavimento che risale ai primi anni, ai primi secoli diciamo del cristianesimo. La commissione presieduta da Mattioli cerca una collaborazione con l'Arcidiogesi per la valorizzazione di questo patrimonio culturale. Speriamo che sia visitabile durante il FAI, chissà. A Vallefoglia, Montefabri, FAI ancora in tempo. E parliamo ancora di FAI, perché queste giornate di primavera, oggi e domani, insomma, mobiliteranno tantissime persone. A Fano si comincia alle 15.30, si visiterà la piazza sopra e sotto, poi si andrà alla Memo per vedere l'Augusteum e poi a Fossombrone, come abbiamo visto prima, ad Urbino, eccetera. Qui siamo a Montefabri, la patria del Beato Sante. Fai ancora tempo. Domani la visita guidata al gioiello, senza tempo di Vallefoglia. Appuntamenti alle 9.30 e alle ore 15 nel pomeriggio. Sarà possibile entrare nelle grotte, usate come vie di fuga nel Medioevo e rifugio in guerra. Quindi un paesino, un borgo veramente delizioso. E lo vediamo in questa bellissima fotografia con un tramonto o un'alba, adesso non riesco a capire, probabilmente è un tramonto sulla Valle del Foglia. Ad Urbino si evidenzia invece un incidente stradale. Un'auto travolge padre e figlio che procedevano nelle rispettive moto gravissimi dopo l'incidente. Si tratta di una lancia Ypsilon condotta da un 85enne urbinate che ha invaso la corsia vicino al rondò della croce. Purtroppo questi due centauri che viaggiavano in moto, due rispettive moto, padre e figlio, sono in gravi condizioni. Sono stati travolti in curva da un'auto che ha invaso la loro corsia. E vediamo ora il resto del Carlino. Il resto del Carlino apre la pagina di Fano con un'opera che deve essere ancora portata a conclusione. Si tratta della piscina. Forse sarà pronta entro la fine dell'anno. Si tratta della piscina che viene realizzata dalla Fondazione Carifano in collaborazione con l'amministrazione comunale. Qui vediamo il sindaco Massimo Seri di fronte al cantiere. È un'opera lungamente attesa, tanto più oggi che l'impianto natatorio dell'Extra Spa viene chiuso e c'è un sovraccarico anche per la piscina di Nisol Salvalai. Fano comunque ha bisogno di una nuova piscina, una nuova piscina fatta veramente con tutti i crismi sia di tipo agonistico che di tipo riabilitativo come è stato redatto il progetto di questa nuova struttura che sorgerà nei pressi dell'aeroporto di Fano. Quindi può darsi che sia pronta per la fine del 2022. Ciclabile, Viale Kenny di Via Roma presto i lavori. Partiranno prima dell'estate. Il progetto ha ottenuto il via libera dei residenti sia degli operatori commerciali che delle associazioni di categoria. Beh, insomma, una bella cosa. L'unico protestatario è l'edicolante di Via Roma che è stato costretto a spostarsi, che viene costretto a spostarsi per fare posto appunto alla nuova pista ciclabile. E poi c'è qualche perplessità per quanto riguarda l'eliminazione di qualche posto macchina appunto su Via Roma dal ponte storto alla rotatoria di Porta Maggiore. Anche il Carlino si occupa della Saipem. I dipendenti tirano un sospiro di sollievo. I loro posti di lavoro non verranno toccati anche se la succursale la dipendenza fanese verrà decurtata dalla centrale di 300 mila euro. Terna investe sulla nostra città a modernamento della stazione elettrica. Viene preannunciato un incontro di giovedì prossimo quando si saprà con certezza il punto di approdo tra Metauriglia e Baia Metauro del cavo sottomarino che sarà poi interrato. Un cavo sottomarino che lascerà le marche e si dirigerà in Abruzzo e quindi collegherà con una più efficiente rete elettrica le fonti energetiche appunto dell'Italia centrale. Colfai ha la scoperta di tre gioielli pergolesi. Anche Pergola evidenzia i suoi gioielli. Sono la chiesa di San Biagio in Santa Maria del Ponte quella di San Marco e l'ex tempio di San Rocchio. Ecco le giornate di primavera. Le visite sono a contributo libero. Necessario il Green Pass rafforzato che sarà controllato all'ingresso per evitare problemi poi di carattere sanitario. Urbino anche qui auto contro motocicli. Due feriti gravi l'impatto nei pressi della rotatoria del consorzio. In ospedale con due voli di eliambulanza padre e figlio delle casertane. E poi fermata del bus da spostare nell'ex osca a Canavaccio i residenti chiedono al comune una maggiore sicurezza soprattutto per gli studenti costretti a scendere in mezzo alla statale 73 bis. sappiamo quando poi magari dalla calca della discesa degli studenti dal bus possono magari spingersi un po' troppo in mezzo alla careggiata e messi in pericolo dal transito delle auto. Sono greco e Urbino mi ha cambiato la vita Filippos Glintonis ha fatto un video di saluto alla città che l'ha laureato farmacista è un video che ha avuto già 10.000 visualizzazioni quindi veramente un grazie alla città. E dato che sabato vediamo anche qualche notizia di sport la vis serve compattezza è ora di pensare ai punti Banchini chiede pragmatismo ovvero occorre fare punti non bisogna fare delle leggerezze bisogna pensare un po' quello che è accaduto al povero Mancini purtroppo che dopo aver passato dei momenti di grande esaltazione per la vittoria di questa estate ora invece è in piena depressione per quanto tra virgolette ovviamente per quanto riguarda questa sconfitta depressione che ha contagiato tutti i tifosi della nazionale due partite per restare davanti alle inseguitrici poi nelle ultime tre possiamo anche fare i calcoli per una migliore posizione ha detto Banchini serve compattezza ed ora bisogna vedere insomma con la carrarese che cosa accadrà in questa partita decisiva Casolla e Zanolla sì il Fano può spingere una gara di fondamentale importanza per i Granata che ospitano il Montegiorgio recuperando giocatori importanti occasione sorpasso Fano Montegiorgio domani una partita decisiva per i Granata soprattutto per i Granata è il match tra due squadre che cercano di uscire dai play-out i Granata a quota 27 punti tenteranno l'operazione sorpasso sui Rosso-Blu che in classifica ne hanno 29 fatto insolito il Montegiorgio non gioca dal 6 marzo scorso quando perse 3-1 a Portodascoli dopo che la formazione di Mr. Mengo aveva collezionato una striscia positiva fatta di 7 risultati utili 3 vittorie e 4 pareggi quindi una defiance su cui può giocare la squadra fanese la squadra dei giocati e vediamo anche che cosa accada al basket banchi VL devi dare il meglio di te il coach il coach presenta la sfida con Brescia la squadra dei record un'avversaria con tante opzioni ha un'identità molto forte e ci vorrà credo molto coraggio per domani per confrontarsi con la Leonessa Brescia un po' la Leonessa d'Italia Brescia ruggisce ormai in faccia a tutti da 11 giornate consecutive e quindi è una partita non certo facile i numeri sono a dimostrare che i Bresciani sono più in forma però insomma la VL con la forza del riscatto potrebbe anche farci ebbene era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che augurarvi un buon weekend noi ci risentiamo per quanto riguarda la rassegna stampa lunedì prossimo alle ore 7 ovviamente l'informazione proseguirà questa sera alle ore 20-30 con occhio alla notizia e l'ETG di Fano TV condotto da Simona e questo per il momento è tutto a risentirci a rispondito di Fano TV